Antonio Semioli, partito pianissimo, Ronaldo Brad va davanti di pacca, Retina Stift mentre sbaglia Rano e LG, Retina su Regina, all'argo Rondinella, poi Ralph Lauren, ancora Ribocca alle rublo del reppi Ronaldo Brad. 200 iniziali in 15 e 1, Rondinella va su Retina Stift, la pariglia al termine della prima curva e poi passa a condurre. Così Rondinella in vantaggio, Retina di rincalzo davanti a Regina, poi Ralph Lauren, Ribocca alle Ronaldo che risale e rublo che chiude il gruppo. 32 per i primi 400 metri, guadagna all'esterno Ronaldo Brad, intanto i 600 se ne vanno in 46 e 2. Rondinella in vantaggio, Retina di rincalzo davanti a Regina, Ronaldo all'argo, poi Ralph Lauren, sbaglia Ronaldo sul finire della seconda curva. Siamo al passaggio di fronte alle tribune, Rondinella su Retina e Regina, poi Ralph Lauren, Ribocca e rublo del reppi. E' scattata la squalifica per Ronaldo, 1,17 il primo chilometro, in bocco della penultima curva, le posizioni che non cambiano, sono concorrenti disposti in fila indiana, capeggiati da Rondinella su Retina e Regina, poi Ralph, Ribocca e rublo. 15 la frazione per iniziare il secondo chilometro da parte di Rondinella, Clacca entra al comando sulla retta opposta alle tribune, servita da Retina Stift, poi Regina sulla quale si affaccia Ralph Lauren, 14,3 dagli 800 ai 600 conclusivi, cerca la fuga a palo lontano, Rondinella, Clacca, Retina la segue, davanti a Regina, Ralph all'esterno che per il momento non guadagna, poi Ribocca e rublo, 400 alla conclusione, Rondinella su Retina, Regina, Ralph, metà della piegata finale, sposta Retina Stift, prova l'aggancio a Rondinella, Clacca dentro guadagna, Regina dei reppi, poi Ralph Lauren, ingresso della retta di arrivo, Rondinella al comando, Retina che prova l'attacco, poi di dentro è Regina, centropista, Ralph, Ribocca e rublo, Rondinella che allunga ancora, c'è l'affondo di Regina, Regina che guadagna tanto nel finale ma sul palo è ancora Rondinella, su Regina, Retina, Ribocca e rublo. Rondinella, 2,31 sul mio cronometro, era bella l'ultima in tris ma era difficile pensare che potesse fare 2.000 metri in testa così, complimenti a Rondinella, Clacca, 2,31 significa 15,5 che potrebbe essere anche qualcosa meno, anzi sicuramente sarà qualcosa meno considerando i primi 100 che abbassano la media perché sono tendenzialmente sempre molto veloci, quindi 15,1, 15,2 potrebbe essere riferimento, Rondinella, Clacca, Cesare Meli, il team Lombardo e la scuderia, bello sguardo, la quota al totalizzatore per Rondinella, Clacca è di 10,16.